Dal suo esilio la leader dell'opposizione bielorussa svetlana Tikhanovskaya non si è arresa, ha continuato a chiedere elezioni democratiche e per questo ha ricevuto il premio per la libertà di pensiero del Parlamento europeo. Dopo la rielezione del presidente Aleksandr Lukashenko in carica dal 1994, in Bielorussia è sorta una protesta democratica di massa. Tikhanovskaya si è detta onorata di ricevere il premio Sakharov, ma ora chiede al Parlamento europeo di fare di più. Le sanzioni contro la Bielorussia non sono abbastanza. Nelle carceri bielorusse ci sono oltre 32.000 oppositori politici detenuti e le sanzioni europee hanno colpito solo 80 persone vicino al governo. Questo può dare un'immagine delle proporzioni. La situazione nel paese continua ad essere terribile, ci sono ancora troppi arresti arbitrari, torture e violenze. Le donne vengono violentate in prigione. Capisco che i tempi della politica sono lenti, ma il popolo bielorusso si attende di più. Luka Shchenko finora ha rifiutato di aprire un dialogo con l'opposizione. Tikhanovskaya appoggia quindi la proposta del Parlamento europeo di creare un gruppo di alto livello di ex capi di Stato e di Governo per mediare tra le due parti a Minsk. Le persone in Bielorussia si stanno battendo per gli stessi valori democratici in cui credono i cittadini europei. Chiedo quindi una dimostrazione di coraggio, lo stesso coraggio che hanno dimostrato i cittadini bielorussi, di denunciare comportamenti antidemocratici nel mio paese. Questo lo possono fare le persone, gli stati e anche l'Unione Europea stessa. Si possono trovare diverse soluzioni ai nostri problemi. Bisogna iniziare da qualche parte però. Insegnante e madre di due figli, Tikhanovskaya ha il marito ancora in carcere. Secondo il Governo, alle ultime elezioni avrebbe ottenuto solo il 10% dei voti, ma nessun organo indipendente ha potuto verificarlo. Ci sono pochi dubbi che le persone mi abbiano scelto come la leader della Bielorussia democratica. Quanto al premio Sakharov siamo davvero onorati. Il popolo bielorusso ha dimostrato molto coraggio e perseveranza e questa è già la terza volta che riceve questo premio. Il che significa che la nostra lotta purtroppo dura da molti anni. E' una lunga battaglia, ma questo però può essere l'anno della svolta, perché il nostro popolo si è svegliato. Le manifestazioni hanno dimostrato che non c'è più paura di esprimere le proprie idee, di parlare a cuore aperto. Non c'è più paura di esporsi in prima persona, per la libertà. E intanto a Minsk la protesta continua.